Di cosa si lamentava il Presidente federale alla fine della partita? Si lamentava che non gli ho dato il 5 e siccome è un po' permaloso e voleva che glielo dessi, io non glielo ho dato ovviamente perché porta bene e non dagli. Hai fatto ancora qualche cambiamento? Stai proponendo sempre delle formazioni diverse per motivo di queste scelte? Il motivo delle scelte sono dettate in parte da una questione di gestione preorganizzata e in parte da quello che sta succedendo in queste partite. Credo che Carolina avesse meritato di ripartire, Antonella dover riprendere il ritmo, Leo eccetera, quindi tutto come previsto. Dopo due anni si è rivista in azzurro Paola Cardullo, un giudizio tecnico sulla sua prova, oltre al sorriso per la contentenza tua? Sì, sono veramente contento per lei perché credo che sia stato un giorno che ha sognato ed è arrivato, ha giocato anche bene, quindi credo che adesso abbia sciolto bene il ghiaccio. Hai fatto anche qualche variazione tattica, hai invertito in un set alle centrali, volevi fare delle prove? No, non le ho invertite, credo di non averle invertite, forse me la sono bevuta ma non credo di averle invertite, però oggi per esempio Raffaele, la folia, aveva bisogno di giocare un po', ha giocato, entusiasmo alle stelle per lei, questo è importante, è un'altra bella dose di energia positiva. Fino adesso tutto come previsto, tre vittorie a tre a zero? Beh, previsto sì, nel senso che questo era un obiettivo di perdere meno tempo possibile in campo, dopo di fare una partita che potesse evitare di metterci minuti in più sulle gambe, questo è successo, adesso riposiamo veramente e poi penseremo alla Germania dopo domani.